ma bella a tutti ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video siamo qui oggi su un video piuttosto speciale anche perchè prima stavo giocando un draft un draft praticamente l'avevo fatto a caso così e niente sono arrivato in finale e sono riuscito a vincerla quando ho riscatato i pacchetti me ne sono arrivati di tutti i colori perchè facevano veramente cagare ho avuto due pacchetti da 25.000 e due da 5.000 crediti e in più ne avevo tre pacchetti di un draft passato che non avevo aperto perchè l'avevo appunto perso alla prima partita allora ho detto ne faccio un altro e li abbiamo tutti insieme e quindi ero ormai giunto senza speranze all'ultimo pacchetto e lì c'è stata la sorpresa e qui vi lascio le clip perchè appunto mamma mia ho sculato veramente veramente tantissimo naturalmente le clip staranno già andando e vedrete ora i primi pacchetti che hanno fatto veramente schifo e ora vi lascerò alla clip migliore all'ultimo pacchetto ragazzi noi come sempre ci vediamo al prossimo video lasciate un bel like per questa sculata e arriviamo a 20 like per un nuovo video di fifa bella ragazzi bella ragazzi